Benvenuti a tutti, questa mattina abbiamo ospiti anche studenti di altre scuole, probabilmente la riunione è registrata e è stata chiesta l'autorizzazione. Noi stiamo dando avvio a questo progetto con Agenda Digitale e lascerò poi la parola a QuantoCoin per la presentazione del lavoro. Una premessa, noi siamo gente di scuola e quindi stiamo lavorando per dare agli studenti che partecipano a questo evento e al contest delle competenze, delle competenze trasversali, delle soft skills che serviranno loro probabilmente in un futuro. Si parlerà di fotografia, quindi avranno una formazione, impareranno a lavorare in un certo modo, a presentare il loro lavoro. La scuola è anche questo, quindi oltre alle competenze base delle discipline specifiche di ogni scuola, queste competenze sono sicuramente competenze utili nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro che immaginiamo sia su questo territorio, perché il progetto è tratto sul nostro territorio, secondo l'orgomento, il territorio è qualcosa di vero, di concreto, oltre che un ambiente, un panorama da fotografare, un posto in cui esercitarsi e anche un posto in cui crescere e nel quale poi magari in grandi impegnarsi professionalmente. Quindi mi auguro che tutto questo sia realizzabile e si possa realizzare nel futuro. Buon lavoro a tutti, lascio la parola a Franco. Grazie. Allora, questo vale per voi, perché noi abbiamo tutto quello che facciamo, lo mettiamo sul sito. Quindi, questo è il nostro sito, cercate la genera digitale, via da su Google, adesso vi dico anche la scuola a Franco, e siamo alla presentazione delle slide. Sì, sì, arrivo, volevo solo trovare le slide. Allora, grazie, scusami, ma per risponderlo ben grande. Questo è tutto buono di oggi, questa è la presentazione, poi la potrete trovare anche voi, della daremo dopo, eh, che è tutto. Va bene. Vedete che cosa succede? Poi lo sbaglio. Per luce, metterlo, con il video, con il video, con il video, con il video. La, ce la possiamo fare. Eccoci, così siete un po' più comodi. Vengo da quella parte lì, che tanto sono le camera a mini. Sì, un attimo. Eh, va bene, direi. No, perché così non ti vedono, ti devono. Ah, ho capito. Devo cambiare un po'. Eh, stia facendo trasformazione digitale, c'è sempre un po' di aggiustamento, prima di arrivare a una roba che va. Non mi spoilerare, però. Ok, mi sa che ci avrebbero resti bloccati. Qual è il problema specifico? Chiedere a cammela. Ah, da vero, da cammela con schermo, adesso c'è nemmeno bisogno. Ok. A posto? Allora, io sono Franco, come sacerdoti, sono direttore di Agenda Digitale, e con me c'è Silvio Basilio, vice direttrice, non so esattamente oggigiorno dove, come si dice, ma quello è. I giudici, Giuliano Benduglio, Davide Corona e Silvestro Russo del liceo scientifico. Quindi, questo è lo staff di Agenda Digitale che è qua per raccontarvi delle cose. A me è la parte più noiosa, che è sostanzialmente... Com'è che faccio andare indietro con questa roba? Andrò di qua? Andrò di qua? Guarda, è magia, funziona. Allora, quindi, io, a me è la parte più noiosa, vi dico due cose su Agenda Digitale, perché se no stiamo parlando, cioè non sapete con chi vi rapportate, mi sembra doveroso, va bene? Ecco, allora, Agenda Digitale, sostanzialmente, si occupa di trasformazione digitale del biellese, cioè, riallacciandomi a quello che dice la vostra dirigente scolastica, sostanzialmente, il nostro scopo è trasformare, grazie al digitale, noi abbiamo giurisdizione sul digitale, non ci interessa la metà meccanica, facciamo per grazie al digitale, trasformare il biellese in un posto più bello, più bello dove speriamo che i nostri figli, che siete tendenzialmente voi, con età, abbiano un posto per vivere, lavorare, eccetera, attraverso la tecnologia, ok? Vogliamo fare del biellese la Silicon Valley di Europa, se potessimo. Questo è il consorzio, i partner, gli azionisti di Agenda Digitale, va bene? Riconoscete qualche marchio? Potete fare voce? Dai. Dai, comuni. Brava, sì. La mia faccia è questa, riconoscete qualche marchio? INA. La fondazione, la cassa di risparmio, le do tempia. Questi? Ok, allora vi faccio la domanda da un milione di dollari, da un milione di euro, chi la possiede? Chi è l'azionista di maggioranza di Agenda Digitale, secondo voi? Gli ordini di chi seguiamo? Se possiamo dire in maniera semplificata, semplicistica. Parate, su. Sella. Qualcun altro? Comincio di Bielo? Oggi compriamo un privato, pubblico territoriale, quindi non ti risposta a Sella, ma ha un sacco di soldi, quindi ovviamente. Allora, l'azionista di maggioranza di Agenda sono le scuole, le scuole bielesi in reti, cioè voi, al lato pratico. Le scuole di Bielo ne possegono circa il 18%, quindi tendenzialmente sono quelli che ci danno un po' la direzione ed è la ragione per cui stiamo qua a lavorare con voi. Tutti questi assieme sostanzialmente mettono tempo e risorse finanziarie a fare una serie di cose che facciamo. Adesso vediamo un po' se... Va bene. Allora, facciamo tante cose, perché per migliorare il bielese c'è un discorso di competenze di base, per cui migliorare le competenze, le persone anche anziane che usano internet, i non occupati, eccetera, quella è la linea di L include. C'è una linea sull'impresa che parla di trasferimento tecnologico, dove facciamo tutto un discorso di formazione interaziendale. C'è una linea di piano e government che coinvolge i comuni, che parla di punti speed, eccetera, e tutta una serie di cose che fanno i comuni per la digitalizzazione del territorio. E c'è la linea Innamorati del bielese che parla della promozione del brand, ok? Queste sono le scatole. In ciascuna scatola lavora qualcuno, non so come mando via... In ciascuna scatola contribuiscono uno o più di ciascuno di questi. In alcune scatole contribuiscono e contribuisce quel pubblico, in alcune altre è privato. Cioè, via l'impresa, ad esempio, è fatta principalmente da privati, mentre... Comunque, andiamo avanti. Ecco, la linea Innamorati del bielese. Quindi, agenda digitale fa trasformazione digitale. Innamorati del bielese si occupa di promozione del brand, del brand bielese, e della sua immagine creativa, perché c'è anche il discorso via la città creativa. Ovvero, questa linea ha come obiettivo quello di vendere all'esterno, fa vedere che è un bel posto, un bel posto per vivere, un bel posto per lavorare, un bel posto per fare tutta una serie di cose e attrarre, attrarre turisti, attrarre gente che vuole vivere, eccetera. Questo è lo scopo. Ora, vediamo se... Qualcuno mi sta a dire che cos'è un brand? Eh, questa è una domanda difficile. Non è un barchio. Eh, proviamo un po' a... Qualcuno? Un barchio. Bene, ma... Ma è più uno specchio. Cos'è un brand? Il brand bielese che vogliamo provare? Cavolo, è? Si mangia? Mi ha messo guardare sui telefoni, cercare su Wikipedia, se volete... Ah, nessuno vuole prendere il telefono e cercarlo? Tu, ad esempio, potresti. Io? Eh, tu. E non lo fai. Grazie. Prego. Cerchio. È il modo in cui un'azienda riesce a differenziarsi dalla concorrenza e stabilire una connessione con i propri clienti. Ok. E il bielese in questa cosa che cos'è? Cioè, per come si applica il bielese? Rileggilo, per favore. È il modo in cui un'azienda riesce a differenziarsi dalla concorrenza e stabilire una connessione con i clienti. Vabbè, il brand è il modo in cui il bielese riesce a differenziarsi da altri baritori stabilendo una connessione con gli utenti, ovvero i turisti, eccetera. Cioè, è trasposto. Dovete applicare un discorso di brand sulle aziende. Quella definizione che hai letto viene da Amazon, secondo me. No. No? Vabbè, il primo risultato su Google di solito è Amazon che ti dice che cos'è un brand. Ok, quindi dobbiamo scoprire che cosa lo connota, eccetera. Quindi, adesso facciamo un piccolo esercizio, perché vi vedo così interattivi e sono molto ottimista a riguardo. Quindi, l'esercizio sarà condotto in qualche cosa. Andiamo proprio a provare a generare un po', a fare delle considerazioni sul brand. Proviamo a creare un pezzo di brand. Dai. Silvia, ti passo? Sì. Allora, andiamo alla slide successiva. Allora, vi facciamo una domanda. Innanzitutto, vorremmo sapere da voi, attraverso questo strumento che si chiama Mentimeter, adesso vi dico come accedere. Non so se l'avevate mai utilizzato, quindi siete autorizzati a prendere i vostri telefonini per entrare nel sistema e googleare menti.com e utilizzare il codice 75429697 e accederete a questa pagina e potrete darci i vostri contributi. Appunto, Franco mi ha parlato di brand, come si costruisce un brand, è qualche cosa che caratterizza un prodotto, un servizio. Ripetere il codice. Il codice, certo. Allora, il codice è 75429697. Dovesse vedere esattamente questa pagina e venite a riferire i vostri contributi. Quindi richiediamo, proprio nella costruzione del nostro brand biellese, quindi il nostro territorio è, in questo caso, il nostro prodotto, il nostro servizio che vogliamo vendere. Quindi vogliamo creare un brand di territorio. Quindi iniziamo a domandarci quali sono le cose belle, quali sono gli elementi del biellese che potrebbero attrarre chi nel biellese vuole venire, non so, a visitarlo, a venire a trovare, a fare qualcosa di insieme. Quindi quali sono i tre posti? Il codice è 75429697. 75429697. Vedete tutti? Ecco, allora, quali sono i tre posti in cui portereste un amico? Vediamo un po', secondo voi, quali sono i posti interessanti. Ma a noi apre l'aggettivo, cioè a me apre l'aggettivo. Ah, sì, io sono forse nella seconda slide. Allora, se trovate i tre aggettivi? Dunque, come si fa? Andai dietro, in basso, in basso, in basso, in basso, in basso, in basso. Potete fare due domande? Ok. Facciamo così che è un po' più... Ok, tre aggettivi che invitano a visitare il biellese. Se vedete prima questo, rispondiamo a questa domanda. Quindi, quali sono, secondo voi, gli aggettivi positivi, quindi, che caratterizzano il nostro territorio? Grazie. Grazie a tutti. vediamo che le inserite si arrivano accreditano i vostri contributi non li farei vedere prima che si chiude i soldati non li farei vedere prima che si chiude Vite, vitalità, religioso, incontaminazione, natura, montano, paesaggi popolati, tranquillo. Abbiamo chiesto tre aggettivi per certuno, quindi dovrebbe arrivarne qualcuno. Avete risposto in tre fino adesso. Quanti hai risposto? Lasciamo aggiornare, guarda, storicità, naturale, bello, verde, paesaggio, stiattura, storico, interessante, molto legato alla montagna. Bello il discorso della pulizia, lo sono state fatte tutti, ria, non arriva. Storico, verde, accogliente. Bene, avete votato tutti? Tre aggettivi più o meno? Forse dovrebbe essere qualcuno in più, ma magari ce n'è qualcuno che si ripete. Quindi, ecco, la vostra visione del brand biellese, di quello che comunque è il ripositivo del nostro territorio, che potrebbe attrarre persone da fuori, parano proprio di un concetto, comunque, dalle parole che emergono, un'accoglienza legata alla natura. Perché comunque gli aggettivi che vengono fuori sono appunto montagna, naturalistico, molto legato appunto alla natura, alla montagna, alla tranquillità. C'è qualche accenno legato alla storia, alla religione, perché probabilmente pensate a Europa, potrebbe essere quello il collegamento, però, insomma, sono questi gli aggettivi che emergono. Quindi, se andiamo alla slide successiva, quella che avevate già visto prima, che quindi parla nel concreto di quali sono i luoghi dove potreste portare i vostri amici. Ecco, vedo che già qualcuno ha messo qualche luogo che ti viene in mente. Quindi, vale e c'è, voro, ropa, ricetto di candelo. Sì, vado avanti, quindi, così, mano a mano, stiamo nella slide. Su, chiavosto, boccina, porno. sono tre ciascuno quindi dovremmo avere un po' di contributi ok Oasi Zegna di Verone Museo Biella del territorio Magino Negozi di Italia perché di Italia? Curioso Chi è che ha detto non ci siamo perché quando si va in giro il pomeriggio comunque i ragazzi ritrovano lì magari nei bar è l'unico posto in cui c'è un po' di vita tra virgolette è un po' di passaggio è comunque in giro storico comunque la via più vecchia di Biella era via maestra Poi altre cose che sono uscite Giambi di Maldini di El Monte ancora qualcosa? A occhio dovrebbero essere se ce n'è qualcuno in più ne avete messi tutti e tre? Dove andate voi la domenica al sabato quando avete del tempo libero? Anche voi tra virgolette Il nostro problema è? Il nostro problema è che vai a Vienaro non vai qua vicino a un posto che ti piaccia Ok, se non ci sono altri contributi, insomma, ci siamo fatti un'idea. Da un lato, appunto, con gli aggettivi avete descritto un paesaggio naturalistico, un territorio accogliente da questo punto di vista, anche tra i territori. Dall'altro lato, quando siete andati a identificare dei luoghi, questi luoghi rispondono in parte a un scorso naturalistico, però vedete che c'è anche molta città, quindi il piatto, l'Italia, i negozi, anche tutta la zona urbana viene considerata. Quindi, nell'andare a costruire il nostro brand del Pielese, ci sono tutti questi elementi che possono essere sfruttati per attrarre le persone e magari per costruire gli itinerari, proprio anche turistici. Quindi vediamo che dal nostro punto di vista c'è molto da offrire. Quindi, quello che noi vogliamo chiedergli attraverso questo progetto è proprio un vostro contributo, ma soprattutto un vostro punto di vista. Adesso vorrei tornare appunto alla presentazione successiva, quindi andiamo a descrivergli il progetto, quello che vorremmo fare insieme a voi. Quindi, proprio dal punto di vista dei ragazzi, di quelli che hanno la vostra età, di come si può vivere il nostro territorio nel tempo libero e di come anche presentare il nostro territorio alle persone che vengono per motivi turistici, che potreste magari invitare voi stessi a fare delle cose insieme sul territorio. Quindi, noi di Agenda Digitale abbiamo sviluppato questo database multimediale infinito, dove andiamo a raccogliere delle fotografie, che sono proprio degli sguardi delle persone che vivono in Viennese, ma ovviamente possono contribuire chiunque, anche un turista, anche un vostro amico che viene da fuori con queste fotografie, in modo che questa narrazione, attraverso le fotografie, sia una narrazione condivisa, che viene fatta da tutte le persone che in qualche modo vogliono contribuire donando una fotografia al database. Quindi, parliamo di fotografie ben fatte, con certi canoni, che adesso poi vi andranno a spiegare le persone che sono qui con noi, che sono appunto i nostri esperti di fotografia, perché sono fotografie che non vogliamo solo far fruire a livello social, quindi tutti noi siamo abituati ogni giorno a scattare un sacco di fotografie con i nostri telefonini e magari condividerle in maniera istantanea attraverso i social, quindi anche per i video brevi, ma queste fotografie, queste immagini che noi mettiamo nel web sono molto volatili, addirittura le storie svaniscono dopo 24 ore, quindi non rimangono. La nostra idea invece è quella di creare un database di fotografie che possa essere sempre fruttibile, che rimanga all'interno appunto di questa cloud di agenda digitale e che sia utilizzabile per la promozione del nostro territorio. Quindi tanti sguardi, ciascuno li va a comporre come un puzzle dal punto di vista di ciascuno del territorio, però con fotografie di alta qualità, quindi alta definizione, avesse loro diranno esattamente come, fatte in un certo modo, che possano poi essere magari utilizzate in termini di comunicazione, anche tappata, quindi ecco perché è l'alta definizione, ecco perché abbiamo bisogno di conservarle, non fare in modo che la fotografia svanisca 24 ore come in una storia, quindi deve essere anche di alta qualità. Quindi vorremmo chiedere aiuto a voi, quindi siamo qua nelle scuole in questi giorni, proprio per spiegare questo tipo di punto di vista che vogliamo portare, chiedere il vostro contributo per aiutarci a fare, a popolare il database multimediale, ma anche a trovare nuovi modi anche di comunicazione digitale per attraverso le persone nel nostro territorio, con il vostro sguardo, che sicuramente è diverso dal nostro, che abbiamo anche un'altra idea. Quindi abbiamo appunto pensato a questo progetto, che ha il PCTO a tutti gli effetti, che ha varie basi, poi non so se vuoi spiegarlo tu Franco, vuoi aggiungere qualcosa? No, 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 bene. Lo che volevo dire è che i foto sono anche filmati, nel senso che raccogliamo, cioè nel senso che non è la fotografia, è una cosa nata sulla fotografia. Adesso vogliamo spostare, infatti il database accoglie anche la raccolta di materiale multimediale, perché è più vicino alla comunicazione giovane, il materiale e il video. Quindi un pezzo di questo progetto è sulle foto, sicuramente perché è tradizionale, se non c'è una foto, un altro pezzo è sui filmati. Sulle foto abbiamo anche delle cose da insegnarvi, sui filmati secondo me siete più voi che dovete insegnare a noi. Sì, infatti vedete che abbiamo inserito anche il social come TikTok, che tipicamente viene utilizzato da una fascia di età molto bassa. Quindi questi sono nuovi strumenti di comunicazione che utilizzano anche i brand, perché non è solo utilizzato TikTok per divertimento, così è nato. Quando si pensa TikTok facilmente quelli della mia generazione pensano ai balletti, perché era nato un po' così, no? In realtà oggi TikTok è utilizzato anche da grandi brand per comunicare al proprio pubblico ed è veramente uno strumento di comunicazione. Io tra le altre cose mi occupo anche di selezione del personale e spesso nelle job description di persone che si occupano di comunicazione web, comunicazione social, è richiesta tra le varie competenze l'intenuto di TikTok, perché appunto le utenze che si occupano di comunicazione lo vogliono oramai come competenza. Per una competenza che noi non abbiamo, sicuramente ci può essere uno scambio di competenze. Magari noi siamo più ferrati dal punto di vista, sentite, sentirete appunto i nostri esperti sulla fotografia, sui video e la comunicazione immediata sicuramente siete più ferrati voi. Quindi gli obiettivi del nostro progetto per il 2023, ci sarà il lancio di contest proprio in questi giorni con le scuole, proprio in questo primo semestre, quindi la raccolta di queste fotografie, di queste immagini, di questi video, e poi svilupperemo insieme una campagna proprio di promozione territoriale, di comunicazione, dove eventualmente sperimenteremo appunto l'intenizzo di questi nuovi social. E poi ci piacerebbe insomma nel corso dell'anno magari fare una mostra, utilizzando anche la realtà aumentata, e far vedere al territorio che cosa abbiamo prodotto attraverso questa attività. Quindi insomma, buon lavoro. Se vorrete partecipare sicuramente da fare ce n'è tanto, come sempre. Bene, lascio allora la parola a voi, i nostri fotografi. Questa c'è una slide ancora da dire. Ah, l'abbiamo già anticipato, se vuoi decidere tu. Beh, effettivamente no, no. Ve la diamo la presentazione, se... Va bene, allora lasciamo la parola ai giudici a questo punto, che vi dicono due cose su... Dai, solo una mano a me. Ah, non c'è, ecco, ti denogoro. Ma certamente che sì. Sì, allora lasciamo la settimana, non ve la dittima. Sì, è tutto buono. Sì, è tutto buono. Ah, partiamo dai no? Sì, sì. Ok. Grazie. Grazie. Perché va qua invece di andare da un'altra parte? Perché cliccando su una foto di Drive va sull'applicazione esterna? Yes. Yes. E adesso? E adesso? Ma non arrivo, eh? Ma non lo stiamo a un canale. Figlierò. Ah, ho capito, c'è. documenti Google. No, ti può essere. Ah, sta cosa. No, è possibile, non possiamo fare quel senso. Ah, perché? Non ho mai visto che non dava un'immagine subito? Fai l'anni prima. Sì, che so. Forse. Ah, va bene, mi danno anche prima. Se faccio chiuso il cuore. Sì, perfetto. Vada. Vada. Allora, io sono Giuliano Piduglio, medaglio del corona e siamo fotografi. dovremmo esserci qua anche a girata morta, ma bloccata da un raffreddore. Io ho quale gestito un raffreddore, quindi qualche colpo di tosse mi scapperà. Cioè, descritti come esperti, siamo appassionati di fotografia, parecchi anni che fotografiamo, quindi qualche corso l'abbiamo fatto e qualche idea in più di qualche anno fa quando abbiamo iniziato ce l'abbiamo. Giudici di agenda digitale, non spaventati per questa parola, semplicemente valutiamo il materiale che ci mandate, il materiale che ci mandate, che sia una fotografia o sia un omidio, lo valutiamo dal punto di vista soprattutto se è accettabile per il catalogo di agenda digitale, per quello che hanno detto prima, e anche se hanno un minimo di tecnica, di tecnica fotografica che comunque è utilizzabile anche per i video, perché in fondo il video non è altro che una serie di fotografie una dietro l'altra. Non a caso nel cinema c'è il direttore della fotografia, che si occupa della fotografia, delle immagini. Io partirei subito con questi esempi, così, tanto per farvi capire come andiamo anche a giudicare delle foto, che ci mandate o dei video, degli esempi sia positivi che negativi. in questo caso quello che vedete è una fotografia sicuramente sbagliata, perché il soggetto che sono queste palatite, full-up, è troppo scuro rispetto al al pettaccio circostante. E' un leggere perché le foto sono abbinate al testo, quindi... Poi Davide, se vuoi visualizzare... Lui è ancora più esperto di me. La domanda, tra l'altro, curiosa, chi di voi usa già adesso una fotocamera digitale piuttosto che il telefono da scattare fotografie? Non abbiate paura, eh. Io ho solo fotocamera digitale. Beh, è già un buon numero. Non vuol dire che col telefono non si possano fare delle foto, eh. Attenzione. Le foto belle le fa il fotografo, non il mezzo che usa per fare le foto belle. Mentre le foto brutte si possono fare anche con fotocamera digitale costosissima e ha obiettivi così. Quindi, qui abbiamo una foto sicuramente sbagliata perché, come dicevo prima, il soggetto è troppo scuro. Non è stata curata l'esposizione. Al contrario, andiamo su una foto che noi chiamiamo bruciata, nonostante il soggetto sia interessante, sono delle linfee sul lago di Biverone, però è sovraesposta. È facile capire perché ci sono queste zone bianche che tecnicamente vengono chiamate bruciate, dove è illeggibile la grafica, il soggetto. Se avete domande, ci chiamiamo in qualsiasi momento. Non sto qui a spiegarvi come si cura l'esposizione, come si regola il diaframma, come i tempi di scatto e tutto quanto, perché mi sembra un po' prematuro, ma ovviamente stiamo a disposizione se avete domande su queste cose. L'immagine successiva, invece, è sbagliata in un altro senso. Anche qui ci troviamo di fronte a un paesaggio anche abbastanza interessante, perché vedete che queste montagne creano dei vari passaggi di luminosità, però la prima montagna, in primo piano, è tutta nera e occupa più del 50% dell'immagine, mentre le restanti sono visibili, il cielo è un po' troppo luminoso, ma questo nero in primo piano sicuramente non aiuta ad apprezzare l'immagine. Cosa si sarebbe potuto fare qua? Oltre a lavorare in post-produzione, software, ma non è questo il caso, magari sovresporre leggermente il cielo per poter avere dei dettagli in più nella montagna. Vi sembra tutto chiaro fino a qua? Sì. Qui abbiamo un particolare tecnico, si chiama quinta, cioè a volte è interessante fotografare un soggetto con una quinta, la parola quinta deriva dal teatro, le famose quinte laterali, che creano una specie di cornice. In questo caso la quinta è stata creata con il tetto che vedete in primo piano, queste tegole. Però qual è l'errore? Che è troppo evidente rispetto al soggetto, cioè quasi lo va a coprire. Di conseguenza in questa foto cosa succede? Non riesco a capire qual è il soggetto reale di questa foto, il tetto di pietra oppure il campanile. Quindi in questo caso dovessimo giudicare noi questa foto la prima cosa che ci viene in mente è ma qual è il soggetto di questa foto? Il tetto, la croce sul tetto a destra, il campanile, le pietre, non si capisce bene qual è il soggetto. Anche se sono per la regola dei terzi tutte posizionate giuste. Esatto. Il terzo di sinistra c'è il campanile, il terzo di destra c'è la croce, il terzo inferiore c'è il tetto. Però non c'è, come diceva lui, una predominanza di qual è effettivamente il soggetto. Però tutti e tre sono posizionati bene per quanto riguarda quel discorso lì. Però non ha senso come fotografia. Esatto. Questa è una fotografia tecnicamente fatta bene. La luce è buona, il contrasto, non è mossa. Quindi fare la classica fotografia di chi alza il telefono o alza la fotocamera scatta senza pensare a quello che sta facendo. Prego. È incondiviso lo schermo? Boh. Scusate, ma lo spiegherà. Secondo che sennò per loro va bene ma stiamo parlando di sentito. Scusate. Andiamo avanti. La regola dei terzi sapete che cos'è? Se no lo cercate su uno. Voglio una macchina. No, una tasca. Esatto. La avete anche sul telefono. La famosa griglia che è quella che aiuta. La vuoi riassumere? La griglia che hanno tutti i telefoni e anche macchine digitali anche importanti aiuta diciamo chi è all'inizio a cercare di calibrare l'inquadratura. Perché l'occhio dello spettatore caga inevitabilmente il primo occhito nel primo incrocio in alto a destra. Poi c'è il primo incrocio in alto a sinistra e poi quelli sotto. Quindi posizionare il soggetto che si vuole fotografare in questo terzo gli dà subito dove voglio che lo spettatore vada a guardare. Questo giusto appunto ho fatto venire fuori in magia successiva il soggetto è esattamente al centro. Cosa che è sbagliato perché qui oltretutto mettendolo in questo modo si perde la contestualizzazione. Cioè io ho un soggetto e voglio far vedere questo soggetto ma dove è questo soggetto? Un tipo le foto delle vacanze dove inquadri la persona davanti non si sa dov'è potrebbe essere ovunque però se inquadro la persona la sposto a destra o la sposto a sinistra e con il resto della foto inquadro una parte fondamentale del paesaggio io posso ricordare dove ero e posso provvedere agli altri dove è questa persona perché lo sto contestualizzando se c'è una torre metto la torre se c'è il mare cerco di fargli capire che è un mare o il tipo di spiagge eccetera però la contestualizzo qui avrebbero dovuto spostare gli alberi tutti sulla destra perché tanto la parte destra non c'è nulla di importante tutti sulla destra e tutto sulla sinistra aveva avuto una distesa di neve che mi dava l'effetto di dov'è questo posto un posto molto grande con una bella distesa di neve con questi alberi e sarebbe stato più accattivante questo è l'errore che si fa quando dice mi piace quello e lo fotografo ma non è così che funziona mi piace quello guardo cosa c'è dentro al frame cosa posso contenere cosa posso togliere se non mi soddisfa mi devo spostare cercare un altro punto di vita perché il punto di vita delle persone è importante perché dentro la fotografia c'è il fotografo quindi fare una fotografia banalmente quello è bello lo fotografo la foto non è bella perché c'è un soggetto bello la foto deve essere bella perché io ho trovato un punto di vista mio che voglio condividere con gli altri e gli altri devono capire questa cosa qui qualsiasi emozione viene fuori funziona se non viene fuori niente non funziona vedi anche girare attorno al soggetto se si può o abbassarsi alzarsi spostarsi di un metro eccetera vedere quello che ci sta dentro quello che voglio far contenere è quello che voglio nascondere perché si può anche nascondere perché la fotografia non mente il fotografo sì perché io quello che tolgo non te lo faccio vedere perfetto ottimo e sempre per lo stesso argomento qui abbiamo una fotografia in questo caso non c'è un soggetto fisso ma quello che è sbagliato di solito che è sbagliato è la linea dell'orizzonte tenuta esattamente al centro che fa diventare questa foto banale una normalissima foto fatta bene c'è la montagna sullo sfondo c'è la paraggia in primo piano però questo orizzonte centrato non non è corretto l'orizzonte o si tiene in alto o si tiene in basso poi vedremo vedremo il pacchè passiamo avanti e abbiamo un altro tipo di errore cioè le famose linee cadenti questo è un edificio che si sviluppa in altezza a parte già aver fatto l'orrore di averlo inquadrato in orizzontale ma siamo rimasti troppo sotto all'edificio puntando la fotocamera verso l'alto abbiamo questo strano effetto chiamato linee cadenti che distorce completamente l'edificio a meno che non sia voluto per una particolare esigenza questa nuovamente è una foto lo vedete anche voi da fastidio vedere vedere una foto del genere passiamo a un altro errore abbastanza comune dove sembra che sia interessante scattare questo tipo di foto anche qui tecnicamente fatta bene la luce a porto è tutto a fuoco ma qual è il soggetto qua? c'è confusione ci sono persone c'è una persona di spalle ci sono delle bottiglie davanti ci sono delle altre cose rosse di lato è un'immagine confusa l'occhio non sa cosa andare a vedere è guidato verso niente perché il fotografo non sapeva cosa vuol dare non si l'ho fatta io questa foto è ma è vero esatto perché se non riesco a fargli vedere avevo bevuto non riesco a fargli vedere quello che io ho visto che mi è interessato che non può essere non è detto che sia tutto da fotografare dovete almeno come faccio io vedo una cosa che mi piace poi mi chiedo cosa mi piace di questa cosa se io vedo una Ferrari non è detto che a tutti piace la Ferrari ma io mi chiedo che cosa mi è piaciuto di questa Ferrari i fanali le maniglie voglio da mettere in risalto quel particolare perché è quello che ha toccato me che a tutti gli altri tocca qualcosa ma c'è sempre qualche cosa che ti attira non tutto quindi anche cercare il particolare per enfatizzarlo ti fa dire io ho visto questo voglio che lo vedano anche gli altri qualcuno dirà mi piace qualcuno non mi piace ma quello è lo scopo della fotografia esatto quindi questa è l'immagine confusa proprio non c'è soggetto non si capisce a che ho fatto questo apportino non lo so in questo caso un'altra bella foto soggetto centrato va bene ma qui dove stiamo? Viverone sì è un lago perché stiamo parlando del biellese ma se io questa foto la devo usare per promuovere il biellese non è contestualizzata cioè come fa che qua è Viverone poi giustamente avete capito che a Viverone che siamo nel biellese l'abbiamo visto prima un luogo interessante del biellese va bene ma quello che volevo farvi capire è che questa foto potrebbe essere fatta anche sul lago di Seo o sul lago Maggiore è anche vero che un lavoro del genere non fatta così proprio col soggetto al centro come dicevamo prima può far capire che anche nel lago di Viverone si possono vedere queste cose quello che io volevo farvi passare è che qui non è contestualizzato bastava abbassarsi un attimino chinarsi un attimo comprendere il cigno e anche lo sfondo del lago di Viverone magari è una barca e avevamo fatto un'ottima composizione se andiamo avanti spero che possiamo passare ecco qua a questo invece abbiamo delle immagini più interessanti cioè positive cosa andiamo a cercare per rendere interessante un'immagine per esempio delle linee in questo caso abbiamo delle diagonali dei triangoli dei rettangoli che sono dal punto di vista fotografico non banali sono piuttosto piuttosto interessanti lì c'era una ricerca di inquadratura se avete notato beh certo perché il centro della piramide è esattamente al centro dell'obiettivo la linea mediana è esattamente al centro quindi è ben ben strutturata lo spazio a sinistra è uguale che lo spazio a destra lo spazio in basso è uguale a spazio in alto quindi essendo una configura geometrica è giusto farlo in questo modo qua ma deve essere proprio guardata bene in modo che sia effettivamente geometrica e speculare e questo vi aiuta anche per questo la griglia che potete vedere nella fotocamera o nello schermo del cellulare più o meno sullo stesso idea questa voi poteste dirmi sì ma qui ci sono di nuovo le linee cadenti ma questo è stato fatto opposto è stato fatto opposto per questo edificio dove è vero che c'è una linea che sono linee cadenti esasperate però c'è una abbastanza simmetria c'è quel triangolo in alto che il fotografo ha voluto dare questa questa idea di di elevazione di non è sono linee cadenti ma sono state ricercate in questo caso poi ci sono quelle due telecamere in basso che sono state inserite nella fotografia proprio per rompere un attimo la la geometria questa teoricamente per i nostri scopi non va bene perché non è contestuale nel senso che non potrebbe essere un edificio ovunque è una bellissima foto che è ma non è contestuale se ci fosse bancassella sopra l'insegna sarebbe diverso e no infatti questa è stata una serie di foto fatte a questo edificio ma ce ne sono anche altre con la scritta bancassella che è tutta un'altra la fine anche questa è una cosa che fa capire che in questo caso le linee cadenti sono state cercate un'altra foto interessante invece sfruttare le linee curve sapete dove siamo qua ci siete già stati qui abbiamo il fotografo ha cercato una simmetria ha cercato di giocare sulle linee pulvole sia quelle che sono il pavimento il soffitto e anche quei finestroni che sono hanno questa questa curvatura tutto centrato diciamo che qui potrebbe essere interessante per un tipo di fotografia avere un soggetto in mezzo in mezzo una persona o qualsiasi cosa però vi potete vedere che le linee curve sono comunque un interesse che può attirare l'occhio dell'osservatore qui invece abbiamo una ricerca di simmetria vedete questo questo soggetto che era un'opera esposta a Palazzo Gromolosa inquadrata da dietro simmetrico anche ristretto alle finestre sullo sfondo Dimmi domanda per quindi quando si vanno a ricercare simmetrie forse si può accantonare la regola detta a sicurei del progetto che non deve andare al centro prima vi aveva fatto vedere una foto no no non è obbligatorio no appunto se c'è una situazione anche l'orizzonte centrale se c'è una situazione di simmetria ho fatto delle foto con l'orizzonte centrale ma la parte sopra era uguale esattamente alla parte sotto e quindi l'ho tenuto centrale perché si divideva effettivamente in quattro parti ma infatti nella fotografia è interessante sia seguire le regole e sia rompere le regole però bisogna certo criterio qui è solo per capire che questo soggetto la facciata della chiesa con la palma sulla destra va per forza scattato in verticale scusima dove va? grazie Pollone la chiesa di Pollone ottimo è fatto apposta il nostro davvero a fare la possibilità dov'è? dove? e me ci arrivo? questo che vogliamo trasmettere fuori sembrava in Liguria no non capivo proprio dall'inizio pensavo fosse tipo quella palazzina che c'è vicino al Duomo no no è una chiesa è una chiesa di Pollone è fatto seminare quindi questa è la classica foto da scattare in verticale anche il discorso di scatto in verticale o scatto in orizzontale è importante soprattutto con i cellulari con le macchine fotografiche il rapporto lato lungo e lato corto è un tre quarti o un quattro terzi quindi non dico che è quadrata ma quasi il cellulare il rapporto lato lungo e lato corto è molto più esasperato quindi scattato a questa foto in orizzontale veramente non ha vero senso questo è quello che dicevo prima la posizione dell'orizzonte in questo caso l'orizzonte è stato tenuto in basso volutamente per enfatizzare il cielo che è interessante queste nuvole questo contrasto di nuvole con il cielo con l'acqua sottostante quindi è anche mantenuto il riflesso del cielo sull'acqua senza tagliarlo quindi in questo caso orizzonte in basso al contrario in questo caso l'orizzonte è tenuto in alto perché il cielo non era interessante ed era stato più corretto aumentare la parte inferiore rispetto alla parte superiore le montagne fanno da sfondo ma non sono il soggetto il soggetto è quella piccola baia con le bacchette anche se ripete quello che ho detto prima la quinta in basso con quella siepe che non va a coprire molto molto l'immagine poi volendo essere sofisticata poteva essere sfocata di me lago di Como zona rassata di Lecco grazie non siamo nel no per cambiare questa cosa vado a farne la cosa scala tu vado a presa anche in questo caso altro tecnico di cominciare il soggetto con anche qui degli altri elementi che non sono il soggetto ma lo evidenziano perché in questo caso almeno quello che si è cercato di fare è di dare subito all'osservatore l'idea di andare a vedere la cupola di Europa non sicuramente quello che ci sta intorno quello che ci sta intorno anche è stato bruttamente tenuto scuro proprio perché deve solo fare da fornice che possono usare anche degli alberi finestra qualsiasi cosa che possa attirare l'occhio dell'osservatore subito sul soggetto senza disperdarsi a guardare altre cose poi può anche andare a vedere altre cose per esempio le persone lì a destra o il porticato sulla sinistra ma il fatto di non scattarla precisamente al centro con la cupola al centro in questo caso la scelta la scelta possiamo dire l'idea era venuta così in realtà la cupola è al centro come prospettiva come prospettiva sì poteva anche essere tutto centrato certo sarebbe stata più noiosa sarebbe stata sì forse più noiosa perché ho scattato proprio quella cosa lì ecco eh ma questo tipo di foto ce ne sono a decine a decine adesso adesso qui un altro un altro esempio interessante ci troviamo nella valle cervo zona della balma dove c'erano le cave e questo è un muraglione che teneva sulla strada dove passavano prima i carri e poi i camion per portare giù le pietre cosa è interessante cosa è stato fatto in questa foto l'inserimento di persone soprattutto per avere un po' di prendere la foto meno nuova ma soprattutto dare l'idea delle dimensioni di quel muro perché se state a guardare senza le persone di vicino era un po' difficile capire quanto è grande questo muro se lo sapete bene è quasi alto come il muro di via Cernaia zona ex ospedale ma se togliamo le cose è difficile veramente capirlo in questo caso l'immagine è contestualizzata con delle persone dando idea di cosa sta succedendo e soprattutto creano l'idea di quanto è grande di quanto è alto questo muro molte volte ci sono io ho visto il fondo di monumenti molto grandi inquadrati senza nessun riferimento circostante e veramente non si capisce quanto è grande per poco qui se notate c'è un'altra soluzione che viene spesso sfruttata quando si trovano delle diagonali e quando noi troviamo delle diagonali che possa essere una strada possa essere dei binari una fila di lampioni in questo caso la parte bassa del moraglione in automatico l'occhio va a vedere cosa c'è in fondo la diagonale e ci sono delle persone perché la prima cosa che vedete in questa foto che vi obbliga la diagonale a guardare è che ci siano delle persone che lì ci sono le persone se fosse stato vuoto avreste mandato l'occhio in un punto dove non c'è nulla e queste cose si scontrano in tante fotografie dove c'è una diagonale che ti obbliga a guardare e sfruttando le diagonali con un soggetto voi obbligate a guardare quel soggetto perché l'occhio segue tutte la diagonale fino al soggetto e se trovate le diagonali sono molto interessanti da sfruttare qui abbiamo dei succedimenti per avere dei punti di ripresa interessanti o comunque validi sempre dall'ottica di immagini che possono promuovere promuovere le piedete questo è un normalissimo punto di ripresa frontale inquadrato il soggetto fa capire che cos'è niente niente di particolare la classica immagine cartolina non è sbagliata però è quello che noi chiamiamo immagine cartolina non dice molto però è un'immagine non è una foto interessante forse quello che vuol dire che lo spazio lì in basso è utilizzabile per del testo per della grafica era quello come devi dire sì perché c'è l'orizzonte al centro che teoricamente è un no però questa è una sfida interessante perché un grafico vuol dire sagra del paese risultato questa foto è già stata ritagliata proprio per questo scopo l'immagine era più larga ma può essere stata caricata sul database chi la utilizza l'ha trovata buona perché ritagliandola riesce a tenere tutto il soggetto in questo caso questa questa costruzione questo edificio e nella parte bassa che è quasi il 50% della fotografia può inserire può inserire del testo però questo dal punto di vista del punto di ripresa è l'immagine frontale niente di particolare buona ma niente di particolare adesso qui abbiamo invece un punto di ripresa dall'alto cosa che impressione dà il punto di ripresa dall'alto che sotto di noi si sviluppa il paesaggio quindi diciamo le cose si distendono davanti a noi anche un'idea di distensione appunto anche qui abbiamo dello spazio in alto per eventuali testi punto di ripresa dal basso invece è stato è enfatizzato questa pavimentazione di pietra e anche qui guida l'occhio verso il soggetto che è il monumento Mosè il duomo e il battistero sullo sfoglio dottor venite un attimo questa è una cosa che mi ha lo stato detto al tempo guardate che belle sotto le linee dei ciotoli che ti guidano al monumento questo è la foto di Ceretti peraltro che è una dei nostri migliori ciotoli esatto si vede proprio questa è una foto interessante faccia bene in che post prodotta in modo corretto soprattutto per via perché ovviamente stiamo parlando di una foto studiata di un professionista foto sicuramente fatta col cavalletto o comunque appoggiando la macchina fotografica non è vero anche fidei ma torno ce l'ho è fatta col cielo perfetto un cancello tutto lo so perché ne ha fatte una marea quel giorno le ha fatte col cellulare quindi quel cellulare si è innamorata di sto cellulare vedete che anche col cellulare si fanno ottime foto che non sono riusciti a distinguere dalle foto fatte da una fotocamera grazie e poi lui adora la luce blu si è sempre l'ora blu e da lui piace la luce blu questa è bella è un altro punto di ripresa particolare dal basso il soggetto è l'edificio in alto volutamente tenuto storto per via della diagonale leggermente non è sfocato c'era la nebbia mentre la parte in basso che dovrebbe essere la quinta volutamente in grande perché comunque interessante con quelle due punte che incorniciano il soggetto io ho finito con esempi positivi e negativi di inquadratura quindi al di fuori vi suggerirvi se scattate fotografia con il cellulare di non lasciarvi prendere dall'automatismo del cellulare il cellulare messo in automatico fa delle ottime foto perché è capace di ottimizzare tutto quello che avete però molte volte per esempio se ci sono delle immagini della situazione scura di poca luce voi scattate la foto vedete che la foto è venuta bene come quella che avete visto prima ma magari ha impostato un tempo di scatto piuttosto lungo magari mezzo secondo un quarto di secondo voi non ne siete accorti ma il cellulare ha fatto questa cosa per avere il diaframma aperto più a lungo e quindi far entrare più luce qual è il problema in questo caso che se ci fosse stato un soggetto che passava una persona o voi con la mano poco ferma questa immagine veniva mossa perché che conosce il problema del tempo di scatto l'impostazione di un centesimo un centoventicinquesimo un cinquecentesimo e al tempo del sensore rimane aperto quindi tempo che il diaframma rimane aperto quindi se io voglio fotografare per esempio una persona in movimento una un'atleta che corre devo bloccarlo quindi come minimo il diaframma mi deve rimanere aperto un cinquecentesimo se lo tengo aperto un centesimo di secondo quindi più a lungo mi verrà sicuramente il corredore mosso altri errori da non fare con il cellulare usare lo zoom digitale perché voi avete uno due a volte anche tre obiettivi sul cellulare di solito di solito un obiettivo normale un grandangolo e uno zoom usate l'obiettivo zoom per avvicinare il soggetto perché il cellulare fate così e ingrandisce sì ma un ingrandimento digitale quindi alla fine se questa foto deve essere stampata o riprodotta si vedrà poi tutti i pixel stessa cosa se volete scattare delle foto in grande usate l'obiettivo per avvicinare prego devo chiedere adesso ne stiamo parlando ora magari val la pena perché attenzione noi abbiamo un problema enorme con la roba scattata da cellulare inghiata da cellulare eccetera che non si dice che non ci piace non la vogliamo però la prima il titolare va da solo ti comprime ti fa una serie di cose arriva una roba con risoluzione sbagliata che non puoi utilizzare in nessun modo tra foto o video che sia se te le fai per essere mandati su whatsapp avete visto le foto che mandate il procedurale inimpiegabili è il problema più grosso quando vorrete mandarci dei vostri lavori per questo contest per cui ci sono i premi eccetera ci sono una parte dovete stare molto attenti prima perché se no è lavoro inutile abbiamo scattato con l'oggettivo credo un 30% dei lavori che ci hanno mandato ce la fate rifare perché erano compressi perché hanno tanti cellulari eccetera quindi ne parleremo qui sulla sezione del sito faremo anche una serie di regole una checklist di cose da fare per assettare il cellulare compatibilmente i modelli ovviamente non possiamo adentare cosa fare per tutti i modelli però possiamo andare a cercare impostazioni alcuni cellulari puoi fare dei settori gli angolo ad esempio fai molto poco però devi fare qualcosa per sì sì perché quando noi acquisiamo roba in una definizione accettabile per un uso poi non è la definizione dei firmati di un spettano o qualcosa del genere e più abbiamo notato per esempio le nostre fotocamere digitali hanno 24 megapixel 36 megapixel e otteniamo delle foto realmente che pesano 10 megabyte 12 13 megabyte ci arrivavano fotografie fatte col cellulare cellulare da 64 megapixel 80 megapixel o chiamo io megapixel poi le andiamo a guardare immagini da 100k è grande è solo grande è solo grande ma non se andiamo a se non c'è non c'è qualità sono enormi io mi fermerei i sensori sono piccoli esatti i sensori sono piccoli i sensori piccoli la macchina invece hanno i sensori più grandi quindi posso stare anche più basso perché la macchina lo sa lo sanno però la qualità è decisa il mio più alto questo 100 di tutti i telefoni li fanno 72 bellissimi da vedere bellissimi da proiettare ma fruibili solo in questo modo qua come cosa perché le macchine grandi qua vedi ma se voglio andare a stampare devo stamparla piccolo bene dentro l'esempio così ho ancora alcune idee sull'inquadratura parlando sempre di fotografia purtroppo o per fortuna a me non piace fare video non sono assolutamente capace a fare video né piccoli né grandi arrivo qualche volta a fare delle presentazioni fotografiche mettendo insieme delle foto con un certo criterio ma è sicuramente quello che dicevamo prima i video sui social eccetera un'altra cosa importante sia per le fotografie ma anche per i video è la cura dell'inquadratura come dicevamo prima non devo utilizzare la macchina fotografica o il cellulare e scattare perché quella cosa lì è interessante vedete questa foto l'inquadratura è stata curata è stata utilizzata quindi la prima cosa da fare è individuare anche il soggetto della fotografia cosa sto fotografando deve esserci deve esserci un soggetto e dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo fotografando e pensare soprattutto che poi chi guarderà la fotografia deve capire a colpo d'occhio qual è il soggetto nella fotografia perché ho scattato con la fotografia che sia una montagna che sia un'albero che sia una chiesa bisogna capire il soggetto altra cosa molto importante è che fotografia vuol dire fotografare con la luce capire che luce c'è come dice fotografia sostituite anche a video uguale fotografia barra video sono cose che considerate in tanti casi anche in un video la luce è importante molto molto semplicemente la luce di una giornata estiva col sole a picco è la cosa più brutta che ci sia perché è una luce cruda che crea delle ombre nette dei contrasti netti se riprendo una persona avrò mezza faccia chiara mezza faccia scura l'ombra del naso degli occhiali cioè luce buone sono a un pochino presto all'alba al tramonto quando il sole sta andando giù famosa ora blu vista prima in quella foto del Duomo quindi capire che luce abbiamo infatti fotografia è fatta con la luce non sempre parlando di luce non andiamo a fare video o scatti fotografici contro sole cioè sole possibilmente alle spalle a destra o a sinistra che se lo abbiamo di fronte almeno che non vogliamo fare delle silhouette ma questo sole ci spara dentro la macchina fotografica o cellulare e come minimo ci crea anche dei riflessi strani particolari questo lo vedete subito scattate la foto vedete il riflesso abbiamo visto arrivare delle foto interessanti come soggetto scattate incontro sole e tutte piene di fasce di luce che la rendevano inutilizzabile se nei video poi bisogna fare molto attenzione a questa situazione perché se ci trovi una situazione dove ci sono molte ombre scure e chiare come esposti la macchina e si adatta e ti sballa l'esposizione quello che prima era nero diventa presunente più chiaro e quello che era chiaro si brucia quindi in questo filmato che fai e si rovina tutto sarebbe conveniente farlo quando ci sono situazioni di cielo velato dove non ci sono ombre dove non ci sono ombre e quindi tu ti puoi muovere tranquillamente vedi tutto e non hai questi problemi perché anche con la macchina lo vedi che quando hai un'esposizione su una zona come ti sposti l'esposimetro va a leggere se sei in automatico sull'ombra la schiarisci e ti brucia tutto il resto questo è un problema che abbiamo considerato bene giusto e l'ultimo due punti che ve li leggo perché li ho trovati così come erano in libro il primo punto dice che l'intuizione per le giuste luci e per le inquadrature è molto preziosa in un video con l'endocoterapia l'intuizione di quella che stiamo facendo luce e inquadratura possono essere utilizzati per trasmettere forti emozioni a chi si trova davanti alle vostre immagini ma è importante ricordare che ancora prima di essere testimoniate le emozioni vanno provate in prima persona e se io sono non sto per scappare una foto e c'è qualcosa che mi emoziona bisogna essere capaci di trasmettere queste emozioni si vedono foto di posti fantastici di persone che mi hanno detto guarda sono andato in questo posto e mi sembrava di essere in paradiso guarda che bella foto che ho fatto ma io lì non riesco a capire che questo è un paradiso perché hanno una normalizzata trasmesse è una cosa molto difficile poi video probabilmente è più non dico facile ma più attibile altro punto interessante è conoscere il soggetto che si sta fotografando perché non è possibile realizzare un'immagine coinvolgente e convincente se non si conosce di cosa si sta fotografando che sia un monumento che sia una persona che sia un qualsiasi altro soggetto la prima cosa che devo sapere che cosa sto fotografando magari anche un po' di storia un po' di aspetti in particolare di questo di questo soggetto che mi aiutano a inquadrare nel modo giusto e magari con la giusta luce basta io quello che voglio dire è guardate 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 fotografie vecchie nuove di fotografi conosciuti vecchi fotografi guardate tutte le fotografie sulle riviste le fotografie sui giornali guardate e analizzatele come è stata fatta perché è stata fatta così eccetera poi voi potete avere ispirazione e metterci del vostro nella vostra fotografia ma guardate guardate fotografie guardate filmati e capirete quelli che sono belli da quelli che sono banali brutti e cerchete di capire come sono stati fatti perché è stato fatto in quel modo perché hanno fatto due o tre montaggi hanno fatto una ripresa e hanno fatto un'altra ed è diventato accattivante quindi guardate 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 che cosa io vi posso consigliare per chi ama la fotografia un social che usa esclusivamente fotografie ma non come Instagram fotografie di qualità si chiama Vero voi andate su Vero e lì guardate 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 e vedrete i fotografi come lavorano cosa vogliono far vedere loro stessi praticamente quindi guardate guardate continuamente fotografie e analizzatele analizzatele squartatele e poi prendete ispirazione come tutto del resto aggiungerei anche di guardare anche delle pitture di artisti famosi dal Caravaggio in A lì trovate tutte le composizioni quella è la composizione pura perché quello che abbiamo detto prima questi pittori lo utilizzavano le regole dei terzi la luce il chiaro scuro i colori le inquadrature tutte cose già viste nelle opere pittoriche bene va bene di queste cose introdurre ma prego sono messi anche analogici cioè si parla solo di digitale si possono portare anche rullini analogici no 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 lo sviluppo più oltre certo se non è un problema noi prendiamo l'oggetto noi prendiamo in pancia l'oggetto digitale poi vanno e che abbiamo oggetto utilizzabile però che arrivi da un rullino da qualsiasi da una depositiva considero bene non è che siamo obbligati il contest con lo faremo dal punto di vista foto quando manderete una foto fra parere lo diciamo a voi ma in realtà vale per qualsiasi fotografo senza ucciderci se avete una foto che pensate che sia belle mandate la foto a taggenda digitale puntopieda puntui e i giudici ve la guardano cioè non c'è questa ti danno un piccolo filo ovviamente non gliene puoi mandare perché non è un corso di fotografia personalizzato per voi sta gente volontaria quindi un altro giorno però la può guardare dicendo quindi se avete dei dubbi mandatela una foto se poi volete confrontarvi perché volete capire una cosa si confrontano i punti di vista noi siamo qua a dire che noi abbiamo ragione a torto però l'esperienza è cosa da un suo livello ognuno di noi vede molto in modo simbolo e quindi se sulle foto vi valuteremo i lavori che arrivano su un contesto tecnica creatività cioè tutte le cose su cui sui video li vedremo a valutare dal punto di vista dell'efficienza comunicativa perché lo scopo del video poi è un buon ritmo va lì perché si tratta di giove i giovani sono i giovani poche possono coinvolgere i giovani per diventare il video quindi infatti in gruppo il più meglio ci sono varie poi ne parliamo delle categorie di compagno adesso io passo appunto sul tema la parola a Silvestro russo che vi parla proprio di efficienza comunicativa che sarà quello su cui dovete concentrare l'altro video allora da dove iniziamo devo darvi qualche consiglio senza però darvi troppe indicazioni per limitarla allora non lo so partendo dal discorso fare un video che sia efficace o da tutti i termini che vieni in mente già qualcosa avete qualche domanda da fare più inizio ma sempre su questo argomento di pubblicizzare il BLS questa cosa qui capire bene l'obiettivo quindi questo contest si può partecipare sia con la foto che col video però l'obiettivo è sempre quello la promozione del BLS che è forti da l'obiettivo è un regolamento poi andiamo a guardare nei punti salienti ma questa già è un'idea assolutamente poi altre domande poi inizio se ne vediamo anche in dubbio non si è iniziale ok allora io comincio però qualsiasi si pensa un quarto d'ora che potrebbe fare la sì anche vero no hai biglietto un quarto allora allora il primo consiglio è un po' quello che si è stato detto alla fine del precedente intervento cioè quello di alimentare la vostra creatività quindi una volta capito qual è l'obiettivo cioè quello che vi chiesto e una volta deciso di partecipare con un video potete cercare di trovare boccando un po' per virgolette l'algoritmo di ciò che vedete su probabilmente attraverso l'utilizzo di social video che possono essere fonte di iscrizione è un pochino più non specifico i video di un minuto magari voi che è stato molto bene vi già li vedete voi li vedete adesso è il vostro utilizzo quello che hanno lo smartphone dove li vedete? TikTok Instagram YouTube ecco questo è uno dei vantaggi cioè grazie al fatto che tutte le persone tutte le grandi aziende si copiano senza nessun tipo di dole voi potete guardare TikTok che è quello che ho poi lanciato con questo tipo di comunicazione ma i Reels di Instagram sono sostanzialmente apprezzato voi trovate lo stesso contenuto pubblicato sia su TikTok sia su Instagram sia su Facebook a differenza qual è le visualizzazioni? su TikTok fanno certi numeri qui Instagram di meno su YouTube è solo quella o meglio dipende dal content creator quale è utilizzato come social di riferimento però quindi in generale in verticale è ammesso anche è ammesso non si è obbligato però ripeto questi dettagli identici li vedrete poi nella regola però su questo gioco quindi alimentare la vostra gravità cosa intendo voi magari vedete di video ma su che argomenti mi piacere se il video io guardo sacchi di video però guardo sulle cose che mi piacciono magari guardo un libro sul DLS ci sto qua che non ha letto da 10 anni che sto qui qualche cosa ho visto però magari posso cercare innanzitutto utilizzando anche i motori di ricerca di questi social sapete che quello di TikTok è molto potente ha superato anche per l'utilizzo quindi cominciare a cercare Biella cominciare a cercare anche altri territori perché voi cercando Biella cosa trovate tutti i prodotti che hanno come argomento Biella realizzati a Biella però può comunque da chi avere degli interessi o qualcosa di futuro avete visto su TikTok qualcosa legato a società a anche sella si stava cominciando a muovere però cercate di essere più chiaro la scuola non criminalizza una competenza trasversale fantastica che è quella di copiare mi spiego copiare cosa vuol dire innanzitutto devi capire che c'è un conflitto in classe di filosofia io sono insegnante di filosofia di un faccio esempio c'è un bel conflitto in classe di storia di solito tante date da ricordare tanti fatti per copiare che devo fare intanto devo capire tra i miei compagni che è quel bravo che non è da tutti è quello bravo che devo immaginare che abbia studiato anche la verità perché magari uno bravo però quella volta si è lasciato con la fidanzata non sa niente e qui ci pare a copiare lui che so che è bravo seconda cosa ve lo spiego perché poi non copiate di vostri invece di altre lezioni di prestatività che posso fare la seconda cosa qual è il trucco per poter vedere copiare ma non fare la propria torniamo al nostro il mio consiglio che osserviamo non è quello di copiare un video già fatto ma di prendere spunto sì ma per prendere spunto con consapevolezza e farsi contaminare da varie cose un quadro un video una sensazione il video magari su un argomento che non c'entra niente con quella cosa allora lì se riesci a scomporre quello che ti è piaciuto di quel contenuto o questo allora puoi metterli insieme non so e per fare questo cosa dovete fare dovete cercare dei video che vi possono essere utili e guardarli però con un occhio critico che parte da che cosa non dalla vostra parte magari di specialista di esperto perché magari qualcuno di voi magari qualcuno di voi è già tutto chissà ma sempre un montaggio però la domanda che vi faccio i video che guardate voi e che vi piacciono che caratteristiche hanno? i video che scartate subito che caratteristiche hanno? ho cominciato a ragionare questo i video che vi piacciono e quindi che non scrollate sono tutti col montaggio ok la dottisci magari tu se tu quelli che hai hanno tutto il montaggio allora tu dici magari voglio per il mio video immagino qualcosa che preveda un montaggio serrato un minuto può essere tanto o può essere poco dipende può essere percepito non è di tanto né poco dipende dal video se è un video interessante voglio vedere il secondo avete visto il tavolo tutto dal giro quella noce quindi un video interessante però vi posso assicurare che un video ad esempio di me che faccio una lezione di filosofia di un minuto questo è lunghissimo poi io in realtà sono bravo ma bravo facciamo ok quindi un minuto non è un'unità di tempo che mi dice è breve o è lungo dipende da quello che ci vengono ma vi è capitato domanda di vedere ad esempio su youtube persone che stanno lì camera fissa ore che tu li segui sì switch però anche su tu dici io vi mi vedo paradiro sinergo come vuoi stare lì o è camera fissa che parla l'uscita non ho ma perché mi interessa però che cosa dico come fa questo qui a parlare davanti alla telecamera e a mantenere la mia intenzione c'è qualcosa nel suo modo di esprimersi quindi il testo nel compito di otizia e riesce a trovare questo tipo di ragionamento non vuol dire che poi faccio un video avete visto durante il lockdown hanno comprato tutte le librerie in Italia tutti con la libreria dentro a passi il video perché qualcuno avrà visto Montemagno che faceva tutti con le librerie che vai a chiamarli che hanno sfruttato le librerie però quello non è copiato perché poi dipende di quello che ci metti tu la prima cosa è di alimentare la vostra creatività cercare dei contenuti che possono essere funzionali a quello che è il vostro politico quindi in questo caso un video di queste caratteristiche per partecipare a questo contest guardare qualcosa che sia di promozione territoriale quindi di posti belli non soltanto di Piedra ma di altri posti quindi diciamo ok ho visto questa cosa che hanno fatto interessante a Milano a New York a ok cercare anche un posto che sia simile a Piedra con caratteristiche se magari trovate un bel video fatto bene a Novara per il territorio per non fare insomma magari più utilizzabile potete prendere magari più spunti rispetto a uno per fare questo tipo di video a New York perché stiamo dall'amont di un paesaggio come dire contesti con conversi più diversi la seconda cosa che vi vorrei consigliare è un po' anche quello che è stato detto è di prevedere allora in questo concorso voi potete partecipare sia da solo che in gruppo ma anche nel caso in cui uno partecipi da solo collaborare con gli altri sempre da cosa fare ma anche per una chiacchierata di un paese che stanno pensando tra gli stori ok oppure no lo facciamo assieme perché magari c'è uno che è particolarmente bravo a montare è lì con Da Vinci con Premier io mi piaccio i video con un montaggio osservato però ci prendo tempo ci senti collaboriamo tu non monti il mio io faccio dirvi cioè a fare un lavoro di gruppo potrebbe essere anche una cosa e avere anche un punto di vista diverso e mettersi in una condizione di perenne brainstorming ho già sentito parlare di questa la nuova vuoi sapere si la testa della cervella letteralmente si però cioè creare mettervi in una condizione di essere continuamente stimolati anche dagli altri anche da chi è e poi il terzo consiglio che mi sento di darvi è quello di prendermi su serio io posso partecipare o non posso se non partecipo per motivo magari per fare della figura o per il premio partecipo prima di per me stesso perché ci metto una volta che Silvestro Russo fa una cosa deve essere fatta bene ma non per gli altri per Silvestro Russo ma la stima che ha di se stesso su questo e quando dico questo cosa intendo metteteci il tempo necessario per fare perché oggi siamo in un'era dove rispetto a prima è solo una questione di te per fare qualsiasi cosa a me qualche mesetto fa mi sento mi gocciola ora se c'è una persona nel mondo meno bravo a fare i lavori di casa mi posso assicurare io sono dei primi 10 una nuova idea non so neanche fare un buco contratto niente non lo so io vi assicuro cosa ho fatto sono andato su youtube cambiare lavandini sono stato là qualche d'ora e ho detto ok sono andato in un negozio che era aperto anche di domenica perché di domenica succedono queste cose sono andato là ho detto a mia moglie e a mio figlio andate via devo stare solo è tornata la sera il lavandino funzionava io adesso non sono un mago di da vincere solo però mi posso assicurare che per ovviamente abbiamo iniziato con il vice avvocato una specie di tg della scuola e quindi montiamo con cadenza e quindi c'è tanto da mutare io vi posso assicurare che ho una velocità nel fare quello che mi interessa dove è anche divertente e l'ho nessuno non ho fatto nessun corso ho il poster di cera vabbè con un youtuber che fa di la storia cioè diventare un punto di verifici proprio però a parte quello ormai e solo a questo di tempo avete nel web tutto per poter prendere tutto mi spiego domanda email agenda digitale posso utilizzare una canzone dove posso trovare una canzone senza dirti d'autore che vorrei mettere d'autore è una domanda che se ci pensate in quest'epoca non ha senso perché tu non lo chiedi a me lo cerchi su google ti vai a guardare 3-4 fonti e lo sai meglio di me me lo inseghi tu dove scaricare le canzoni e che costrui di tutto è solo una questione di tempo e io vi consiglio se decidete di partecipare di metterci il tempo è necessario ultimo consiglio coraggio se avete visto ci sono si possono fare tante regole però è vero che poi queste regole le rompi e se le sai rompere hai anche più successo in cui seguirete quindi se vi viene un'idea e credete non la fate ma ci credete su quell'idea e ci lavorate su fate questo è il punto consiglio di sfruttare grazie ci rimangono ancora fino alle 11 cioè fino alle 11 corretto? abbiamo ancora direi 25 minuti che sono che a proprio raccontare a questo punto il regolamento di questo contest che facciamo anche a beneficio di chi ci guarderà dopo perché stanno mostrando e chiedervi una cortesia alla fine quindi cominciò da la cortesia alla fine ora e c'è il giorno di lo schermo cazzo l'ero che va con scatto arrivati noi siamo nella fase 1 conte scuole da marzo a giugno questo facciamo da luglio faremo cose bellissime c'è per sulla base anche di quello che tiriamo su perché stiamo andando passi bellissime ok allora tendenzialmente allora funziona così tutto quello che c'è da sapere e se non c'è ripetecelo c'è qualcosa trovate qua sopra c'è questo link che vale dove trovate questo di cosa lo diamo a visitare assieme andateci anche sul telefonino andiamoci tutti assieme poi lo facciamo a schermo che è più ecco detto oggi pronto allora diventerà più bella metteremo un po' di grafica eccetera eccetera però di base c'è da guardare il regolamento e poi abbiamo fatto un modulo per caricarle che non è il nostro database che non è abbiamo fatto un cartellino minore fate un attimo con noi che però che è molto vero chiedere siccome abbiamo dato un limite di 100 megabyte a un filmato se l'ho chiamato un minuto pensiamo che da 200 200 megabyte e se l'ho chiamato di un minuto penso che ci sta non li puoi mandare non li puoi mandare via mail dovete darceli attraverso il modulo google che è disposto dove voi caricate il paio la tua definizione e ci mettete dentro vi romperemo le scatole chiedendovi un sacco di dati proprio per esigenze di sapere chi siete voi per fini di pregare per sapere come classificare il filmato ok per cui preparatevi una volta che ce l'avete ci vorranno 10 minuti per metterlo dentro correttamente con tutti i dati dentro il modulo bene poi se lo vedete lo guardiamo comunque io partirei dal regolamento ecco qua sotto trovate tutto regolamento apposito modo di caricamento il materiale alla fine il progetto che potete leggervi perché fa parte di un progetto più ampio questo contest e la presentazione di oggi che anche queste qua cliccate sopra potete anche rivedere le cose che c'è il tutorial sarebbe la registrazione di oggi che appena abbiamo e la montata la mettiamo online così gli altri studenti che hanno per scuole potranno andarsi a voler vedere ok quindi io partirei molto velocemente dal regolamento che vi mostro per sommi capi siete studenti dovete leggerlo se volete partecipare correttamente non è tanto l'u oh già perché sta ancora dentro la parte privata del sito perché lo facciamo uscire oggi e non è ancora pubblico quindi aspettate che mi auto-autorizzo la vicepresidenza mi chiede la condivisione addirittura vediamo adesso facciamo così dovrebbe essere tornato ho chiesto ho chiesto l'accesso non ho mai andato eccolo qua bene allora l'indice versione di questo documento allora sostanzialmente man mano scrivi la prima volta che facciamo questa cosa ci accorgeremo che abbiamo scritto delle cavolate qua sopra magari eventualmente magari no è tutto perfetto da subito quindi sarà potestà del gruppo dei giudici sostanzialmente approvati dal nostro consiglio di amministrazione proporre delle modifiche in corso cioè vediamo che vi è chiesta una cosa che era impossibile modifichiamo quindi trovate come regola l'elenco delle versioni adesso c'è quella quale che esce oggi poi parliamo di agire da digitale che è una linea innamorati del BN e parliamo del contest quindi tutte le cose che abbiamo detto oggi non mi ci soffermo dopodiché ci sono delle categorie delle sottocategorie in cui puoi partecipare qui ci vado quando scriviamo e poi essendo un regolamento vi diciamo sulla base di cosa valutiamo i lavori che arrivano quali sono i premi e come si ritirano e ovviamente tutta la roba che ci aveva noi la usiamo per i nostri social eccetera quindi sono detto quando voi date la roba la date in licenza che avete il commos che per parentesi è il valore aggiunto più grosso del database multimediale di agenda digitale di Ella perché quando voi avete bisogno di una foto per fare un lavoro eccetera la cercate su Google è sempre in qualche modo comprata dal diritto d'autore lì siete sicuri che le nostre foto le potete prendere basta citare l'autore e le potete usare liberamente ok quindi c'è anche questo tema qua quindi vado nel merito come ho detto salto le versioni cos'è agenda digitale di Ella e la linea innamorati del biellese che avete visto qua ecco il condono virale vale la pena di leggere i punti chi può partecipare tutti i ragazzi di qualsiasi scuola di Biella ok se minorenne ovviamente hai bisogno dell'autorizzazione del pittore se no non si può fare con cosa si partecipa con filmati fotografie di promozione del biellese non a caso si partecipa con filmati non a caso sono per primi filmati ci interessa in questa favera abbiamo raccolto foto per due anni se ce ne mandate siamo contenti però vorremmo cambiare un po' genere diciamo così si può partecipare anche con più di una foto o di un filmato il singolo di voi che vuole farne due ne può fare due è solo una questione di tanto lavoro che ci si mette quindi è ovvio che può candidarsi per più premi eccetera come c'è un apposito modulo da inviare quando apriamo oggi oggi lo apriamo alle scuole internamente poi in settimana lo comunicheremo diremo al mondo che stia facendo questa cosa che Agenda Digitale di Scuola di Biella sta facendo questa cosa non appena il prototutorial probabilmente ok come si vede quando allora cosa si dice dei premi ma anche speriamo soddisfazione e per altre informazioni consultate il sito che è tutto lì ok ovviamente c'è un rimando allora a questo punto scendo ecco specifiche le leggiamo molto velocemente fra parentesi io chiedo se ci sono esperti diteci se sono fattibili queste specifiche che chiediamo perché chiediamo delle specifiche tecniche minimali vi faccio un esempio quando mi ha fatto un concorso con i ragazzi per le scuole ci arrivavano foto molto piccole che dove scappiamo immediatamente eccetera cioè uno per accedere alla valutazione deve avere dei requisiti minimali minimi sotto non passa è inutile che ci vende altre roba quindi se vedete che ci sono cose non realizzabili questi requisiti minimali non realizzabili ovviamente la promozione del mille cioè lo scopo che tu facci una foto firmata eccetera lo scopo sotteso più o meno esplicito è promuovere il mille il materiale deve essere generato dopo la data di lancio cioè non vale cose di archivio magari avete dei bellissimi lavori ma deve essere fatto specificatamente per i contest quindi a partire da 7 che non vale mandarci da ora la chiro le fotografie qui è facile sappiamo bene come deve essere una foto per poterla utilizzare da un punto di vista grafico vogliamo almeno un minuto pixel lato corto sappiamo che con un peso dai 4 a 10 megabyte è abbastanza come si dice fitta di dpi poi non ci deve essere watermark scritte sovraimpesse ok c'è alcuni cellulari ce li mettono in watermark automaticamente vedo quella che era né altro tipo di post processamento invasivo i filtri seppia no assolutamente ci dovete dare le cose come è stata per i filmati è più morbida questa cosa di fatti vengo ai filmati i filmati allora il criterio è da essere qualcosa che poi posso eventualmente passare sui nuovi media che sia risdi in tubo anche che sia instagram che sia tiktok eccetera eccetera quindi prendiamo dei 10 secondi al minuto dai 10 secondi due giorni fa c'è una riunione che abbiamo tra poco e uno di quelli che intervengono mi ha detto quanto deve durare il mio intervento e ho detto se sei veramente bravo 5 minuti se meno puoi anche farne qualcuno in più io sono un ingegnere io sono della scuola che fare sintesi è difficilissimo stavo in base 10 secondi efficace fare utilizzato da un minuto però queste sono mie opinioni sta di fatto che questo accettiamo poi è ovvio che se è un minuto e 10 secondi non ve lo scappiamo se ci mandate una roba di 10 minuti invece no ok quindi un granosalix almeno 720p ovvero 1280x720 oppure qualsiasi combinazione superiore agli 0 se moltiplichi hai non è 0,1 ma è 0,9 non ho corretto qua se moltiplichi 1280x120 hai 1,9 megapixel e almeno 30 e almeno 30 se inserite musica attenzione questa è una roba perché quando scarichi le ris che fai su Instagram non ti dà la musica perché Instagram non ha pagato i diritti e tu no quindi tendenzialmente questa è una limitazione dovete pensarci a studiare non ci può essere musica coperta da diritto d'autore perché è inutile che mi date una roba in licenza creata di commos utilizzatelo oppure se poi hai di qualcun altro una musica quindi state attenti al suo pezzo nel faccio metteremo anche magari un elenco di siti dove puoi prendere economi sonori gratuiti eccetera è una limitazione anche qua video nessun watermark scritta sovrapposta nella fascia inferiore o superiore non vogliamo delle scritte sopra e sotto perché poi magari quando li acquisiamo ci mettiamo in logo innamorati debillese eccetera eccetera è ovvio che un video creativo può anche avere delle scritte immagini che compaiono eccetera quindi non è uno sconsigliarlo totale sto dicendo lasciate le due zone libere e poi vediamo il materiale che non rispetto ai tuoi genitori verrà scattato ovviamente allora categorie di premi ecco questa la mando a capo perché così vediamo tutta la la colonna assieme tutta la tabella assieme ci sono tre categorie video collettivi video individuali e fotografie che sono per loro natura individuali nel senso che non è che ti metti con un'altra fauna ok quindi sono tre categorie poi concorre a tutto quello che e su ciascuna categoria ci sono delle sottocategorie per cui puoi scegliere concorro come luoghi canonici come tracce suggerite e come l'immaginazione delle originalità vi spiego le sottocategorie sono poi elencate qua sotto luoghi canonici c'è un elenco dei luoghi che stanno nella daily planet in un qualsiasi guida turistica ci sono sempre quei 6-7 luoghi importanti del biedese sono il centro storico il nuovo battistero a piazza funitorare il sacro monte di Europa il mucrone il borgo del ricetto di candelo il parco naturale della burscina l'osizzer il bielmonte lago di il verone santuario di graglia io precedente prendo vado fino alla burscina con due o tre miei amici ci mettiamo lì giriamo un video siamo alla burscina venite a vedere questo bellissimo posto guardate queste piante non sono capace siete capaci voi però vi filmate la cosa ve la montate e questo è una sottocateria luoghi canonici un classico non deve fare come volete i video non deve essere sicuramente questo deve essere un invito come se volessi invitare un amico a venire qua secondo me questo è il criterio con cui girate il video ok sotto categoria tracce suggerite magari ne aggiungeremo allora il primo punto ci arriviamo tra un attimo angoli nascosti del biellese dov'è che andate che nessuno conosce che è proprio bello state lì non c'è ma fatto per i vostri occhi vi promette un'emozione eccetera dove andate con la fidanzata il fidanzato torna angoli nascosti le fioriture siamo nel periodo giusto adesso c'è l'opera di Vendri Cavagliari intorni Cavagliari è uno dei nostri partner che ci finanziano questa cosa eccetera quindi ci piace l'idea se volete andare a Cavagliari sicuramente è molto facile nessuno fa tantissime foto lì però è una buona categoria in cui diciamo così come anche le ville di Vigliano ecco qua aggiungeremo le cose anzi se volete se avete in mente un tema che vi solletica possiamo aggiungerlo qua seduta stante una cosa che deve sviluppare pensateci ve lo dite e dentro quando finirei parlare lo aggiungiamo è questo che dico che questo ragionamento potrà cambiare e quando cambia segneremo all'inizio dove abbiamo cambiato perché è corretto dire non è che puoi cambiare una roba le cose che devi vivere dove le cambiate ok l'ultima sottocategoria è immaginazione e originalità qua veramente stupiteci fate proprio le classiche cose canoniche che noi 50 anni diciamo questa roba proprio quella deve arrivarsi 6 nove o di che criteri di valutazione assegnazione dei premi allora c'è una commissione di valutazione che è composta da un misto di giudici insegnanti delle scuole al momento c'è Silvestro come per il libro in particolare c'è tutta una expertise vice di elenco perché ovviamente è un po' pubblico l'evento dei giudici è pubblico le forze firmate saranno classificate dalla commissione con un voto, abbiamo pensato una roba con le scuole e abbiamo un voto alla fine per valutare forze firmate, al primo decimale ok, sette e mezzo corredato da un giudizio contesto deboli quadratura ben fatta eccetera, quello che ci sarà quindi di quello che mandate vi arriverà un feedback, a prescindere sia che sia ammesso se che non sia ammesso ecco, il criterio di valutazione nel caso del voto sono i soliti, creatività, tecnici e contestualità che si possono anche applicare a video quanto è creativo, quanto è contestuale quanto è tecnicamente ben fatto però nei video invece ci interessa di più l'efficacia comunicativa quindi non ci interessa che non va fatta stra bene eccetera, ci interessa una cosa che comunichi emozioni, ok? quindi in generale, diciamo che il materiale che è molto superiore a 7 verrà messo alla premiazione sotto a 7 eccetera, questa è anche roba che va sui nostri database eccetera deve avere un certo livello di qualità quindi, pur essendo apprezzato di certi lavori perché non è che siete dei confessionisti quindi già avere un 7 su una fotografia io non credo di aver mai scattato una fotografia da 7 cioè, per cui arrivare a 7 non significa che arrivano a 7 in un voto, né un voto come si dice come una prestativa scolastica vi state misurando in un campo dove c'è gente brava quindi è anche una soddisfazione non vi aspettate che tutto venga preso preso e adesso prende la pregazione che parte della dell'orecone a questo punto per ogni combinazione di categoria e specialità e sottocategoria qua vedete lo correggiamo oggi lo lanciamo le abbiamo indicate come specialità le abbiamo assegnate un premio del paniere eccolo qua vedete qua questa griglia che adesso magari è un po' più senso per voi quindi vincerà un premio video collettivi, luoghi canonici video individuali, luoghi canonici fotografie, luoghi canonici video collettivi, tracce, suggerite e via così ciascuno di questi è un premio assegniamo i primi 9 premi sostanzialmente a uno per categoria ok sta andando giù però assegnate un premio da paniere per ogni combinazione di categoria e sottocategoria quello che vi ho fatto vedere ecco c'è un paniere di premi diciamo così belli che non ci offre il mondo office e sapete come c'è il mondo office è una categoria di premi non dico di consolazione perché sono belli anche quelli però meno valore economico potremmo dire quello che succede è che essendo i premi vari e aumenteranno perché noi in questo momento finita sta roba andiamo in giro per dare risposta che non vi interesserà di sponsorizzare questo contest mi rivolgo a chi ci guarda la streaming anche chi vince e si valta per il punteggio ha la prima scelta del paniere di premi il secondo classificato alla seconda scelta e via così in modo siccome abbiamo premi molto diversi tra loro per loro natura eccetera facciamo così ok quindi chi vince per chi vince sceglie per primo e avanti così ulteriori premi sono fuori dalla griglia dei novi saranno assegnati sempre dal voto più alto a quello più basso ma qua non guardiamo la categoria una roba bella viene premiata ok l'importante all'inizio premiare una cosa per categoria ma poi finiti di dare per categoria premiamo semplicemente quanto vuole abbiamo sei premi speciali che spero che potranno essere nuovi per i primi classificati con le varie categorie e sotto categorie ma l'ho già spedito a validare questo verbale offerti da mondo office ok abbiamo detto poi abbiamo dieci cataloghi fotografici con le migliori immagini del datamento multimediale del 2021 e dieci casse bluetooth sono carine si sentono decenti però sono spessi possiamo dire che sono di consolazione avvertenze ovviamente dovete la roba deve essere scattata girata da voi non potete partecipare fino a foto di matto di cui ha fatto qualcun altro ok il materiale non deve presentare pornografia pratico d'armi insultare gente tutte queste cose qua deve discriminare per etnia sesso religione pensiero politico questo qualsiasi contest scappare dove raccoglie le cose ci devono essere queste regole non deve contenere riferimenti a promozione o sostegno di attività illegali che direi nemmeno la promozione di quelle legali non potete diffusarvi per farvi il video a qualcosa anche per quanto vi un'onda che bisogna rapprezzare le regole se riuscite a farvi pagare qualcuno per mettergli il prodotto nel video e mandare già siete dei geni ok la redazione ovviamente se fate qualcosa di legale non è colpa nostra punto e e ovviamente ci riserviamo il diritto insindacabile di escludere tutto quello che non risponde ai criteri illustrati non dobbiamo dare spiegazione vediamo ma non dobbiamo possiamo abitare una commissione la commissione decide in questi casi si fa così ultimo punto è il materiale che inviate è sottoposta a licenza creative commons voi lo autorizzate la riproduzione replica riprocessamento basta che venga citato il vostro nome c'è qua nel regolamento sopra sbagliato scritto dai a posto di day dov'è che è scritto? l'eliminazione dei partecipanti scusa l'ultima riga dei resumo dei partecipanti l'ho finito ieri alle 11.30 quindi è un po' così eccetera quindi licenza guardate la carattere copre parlate un po' che cosa abbiamo una palla ergonomica quella dove ci siedi fai gli esercizi eccetera poi uno zaino porta pc anche pc questi sono i 9 premi ai vincitori diciamo così due lampade vlog adesso poi vi metto il link al catalogo mondoffice dove ci sono e due cuffie da gaming per adesso poi aumenteremo un attimino questi premi spero dopodiché abbiamo quelli di consolazione diciamo così abbiamo questa è una delle cose più ambiti che abbiamo il nostro catalogo fotografico fatto con le migliori fotografie del 2021 dovevo portarvene uno eccetera perché ne abbiamo fatti pochissimi e quindi sono molto ambiti tutti li voleva quelli che sanno che c'è io non so che c'è non lo vuole però quindi questo è un bel premio nel senso che abbiamo e le casse bluetooth marchiate sembra più grande di quello che è lo dico la foto è stata molto abile a ritrarla e direi che a livello di di cose che ho raccontato tutto poi leggere se noi rispondiamo sempre scrivete a info che ha sull'agenda digitale come scrittoria noi abbiamo in giornata quindi la prima cosa che voglio chiedere è se avete domande poi voglio chiedere la cortesia quando è stato estremamente chiaro estremamente poco chiaro se non avete nessuna va bene allora chiedere la cortesia chiedere la cortesia a chi sappiamo che è esperto di video montaggi video eccetera presumo sia tu giusto come ti chiamo Gabriele Gabriele allora se è questa avete assimilato il senso di questa iniziativa parlate del materiale che è quale è però adesso lo mandiamo mandiamo questo filmato a tutte le scuole spieghiamo e manderemo una comunicazione interna dobbiamo anche fare una comunicazione interna al mondo per dire che esiste questa collaborazione facendo abbiamo lanciato questo contest che magari i clienti che non raggiungono i dirigenti con le mailing list magari vedono fuori i genitori sui social eccetera dobbiamo farlo quindi io vi chiedo essendo un concorso per video ha un senso che la comunicazione che facciamo sui social sia fatta come video io quello che vorrei chiedervi è se siete disposti eccetera in un altro di tre giorni a livello buona quindi fuori concorso potremmo dire ma possiamo anche chiedermi in concorso se ci fate un invito invito di partecipazione agli altri studenti avete capito che cos'è questo contest avete capito gli obiettivi fate pinta di dover invitare un amico partecipo a questa cosa perché sono un appassionato di video making se vuoi avere un'opportunità di raccontare il bielese attraverso i tuoi occhi vieni questo è quello che direi io ma qualsiasi cosa anche lì invigio da dieci secondi a un minuto con un invito eccetera che è anche un buon modo di far dare il senso di questo conno è una fortesia non siete obbligati lo chiedo al buona in questo momento che in particolare era l'altra al prenazionale per buona ne prendiamo dopo magari proprio come perché se è un discorso di comunicazione se c'è un dato dovete dirci che lo diamo per quel giorno e poi quel giorno che non deve essere domani però in capo una settimana che abbiamo fatto che abbiamo fatto il lancio internos vogliamo fare il lancio pubblico quindi dovete darci lo facciamo sarà lungo X poi noi a scatola chiusa lo prendiamo da proprio ascoltato perché siete molto bravi ci proviamo questa è una cortesia è finita ora sono bravissima devo farlo non so viene a 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